Si registra ancora una volta un decremento delle regolarità riscontrate nel corso dei controlli sul corretto conferimento dei rifiuti in città dopo ben otto settimane dall'inizio del piano dei controlli per l'esattezza dallo scorso 14 marzo. Un trend positivo dunque per la seconda settimana consecutiva, a seguito dell'azione svolta dalla Polizia Municipale con il supporto degli operatori della Dasti. Su 51 accertamenti eseguiti sono stati trovati 16 rifiuti non conformi, mentre ben 35 regolari. I controlli sono stati effettuati in diverse vie, in vari punti della città, della zona industriale e anche in alcune contrade. I dati positivi comunque non fermeranno l'azione di sensibilizzazione nei confronti delle utenze avviata dall'amministrazione comunale di Caltanissette insieme alla Dasti, che proseguiranno infatti con il piano dei controlli fino a quando permarranno i rifiuti regolari.